Quando sono andato a prendere Andrea quella notte, dopo che mi aveva chiamato, mi ha raccontato che Simone l'aveva umiliata, obbligandola a stare nuda mentre lui faceva un video con il telefonino. Queste sono le parole che Omar Carlin, amico di Andrea Rabciuk, ha riferito agli inquirenti. Andrea, la giovane romena di 27 anni, era scomparsa il 12 marzo 2022 da Monte Carotto, in provincia di Ancona, e il suo corpo è stato ritrovato il 20 gennaio 2023 in un casolare a Castelplanio, non lontano dal luogo in cui era sparita. Carlin, ascoltato come testimone l'8 maggio 2022, ha raccontato che, qualche tempo prima della scomparsa di Andrea, una notte era andato a recuperarla fuori da un albergo. La ragazza era rimasta chiusa dentro con il fidanzato Simone Gresti, 46 anni, e altre due donne. In quella circostanza, Andrea avrebbe subito umiliazioni e violenze fisiche da parte di Gresti, che l'aveva costretta a denudarsi mentre la filmava. Simone Gresti risulta indagato per maltrattamenti e istigazione al suicidio. La procura ha però deciso di archiviare l'ipotesi di omicidio, ritenendo che non ci fossero prove sufficienti per un'accusa in tal senso. Secondo quanto emerso dalle indagini, il fidanzato di Andrea sarebbe stato l'ultimo a vederla viva. La ragazza scomparve nelle prime ore del mattino, dopo aver partecipato a un festino in una roulotte parcheggiata nel giardino di una casa di campagna, insieme a Gresti e a due amici. Dopo un'accesa discussione con il compagno, Andrea si allontanò a piedi dalla roulotte, svanendo nel nulla. Gli investigatori hanno ricostruito una relazione di natura tossica e pericolosa, segnata da maltrattamenti e violenze psicologiche nei confronti della giovane. In particolare, Andrea sembrava essere vittima di gaslighting, una manipolazione psicologica che induce chi la subisce a dubitare di se stesso. Gli esperti hanno concluso che Simone Gresti spingeva Andrea a scrivere frasi devastanti contro di sé. Nel suo diario si leggono parole come, sei una miseria, miserabile, tu non sei niente per me. Mi viene da vomitare solo a guardarti in faccia. E un'altra frase che sembra premonitrice. Non vado perché non ti voglio più. Vado perché non posso più restare. Non voglio essere più la causa del tuo malore. Mi dispiace di non essere stata abbastanza forte. Un'amica di Andrea ha fornito una testimonianza straziante, raccontando di averla trovata con lividi sulle braccia, un graffio sul viso e altri segni di violenza sulle gambe. La ragazza le avrebbe spiegato che Simone l'aveva picchiata e che non era la prima volta. Inoltre, Andrea avrebbe detto di essere stata privata del suo telefono, un gesto che Simone compiva frequentemente. Dopo quell'incidente, Andrea decise di rivolgersi alla casa delle donne di Gesi per raccontare la sua storia, ma nonostante la violenza subita, non denunciò mai Gresti. Andrea era dipendente da Simone, non solo emotivamente, ma anche fisicamente. L'uomo, oltre ad essere indagato per maltrattamenti, è accusato anche di spaccio e la ragazza era dipendente dal crack. La sua relazione con Gresti sembrava essere legata a una dipendenza reciproca, in cui, per Andrea, lasciarlo significava anche rinunciare alla droga. Questo legame perverso e di controllo da parte di Simone, che occupava una posizione dominante nella sua vita, ha contribuito a mantenere Andrea intrappolata in una spirale di violenza psicologica e fisica. Per Simone Gresti potrebbe esserci presto una richiesta di rinvio a giudizio, in relazione ai maltrattamenti e all'istigazione al suicidio di Andrea.